buonasera e benvenuti a tutti a questo appuntamento con il training talent show coaching prima di partire è doveroso comunque leggere il disclaimer quindi marco che qui presente con noi se puoi mettere la schermata del disclaimer così la leggo rapidamente allora i contenuti di questo materiale di tattico sono offerti da terze parti non da tic 1000 hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea indecisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori a tic 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio le opinioni espresse dei relatori non necessariamente rispecchino quelle di tic 1000 a meno che non sia stato specificato l'avvertenza sul rischio il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non adatto a tutti gli investitori le perdite possono eccedere all'investimento iniziale assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio allora questo primo webinar del training talent show avrà come ovviamente presentatori il sottoscritto giuseppe cericoa che rappresento il broker partner di questa iniziativa che è stata promossa da renato de carolis e il coach marco d'andrea che un trader quantitativo tu marco mi senti bene sì giuseppe buonasera a tutti e grazie per la presentazione per l'opportunità voi mi sentite bene vediamo sì se mi date anche un feedback in chat se mi sentite se ci sentite bene sì sì sono arrivati un po di mani alzate quindi tutto ok allora io direi di entrare comunque nel nel vivo di questo eh primo appuntamento che in realtà doveva essere il secondo ma eh purtroppo per problemi tecnici eh nello scorso webinar non è stato possibile eh appunto eh avviare il webinar per problematiche tecniche con go to webinar quindi cercheremo di recuperare anche gli argomenti che non sono stati trattati nel primo appuntamento eh come dicevo lo sponsor di questo di questo evento è ticmil adesso non vi sto ad elencare le qualità del broker eh potete poi vederlo dal sito direttamente di ticmil www.ticmil.com eh sappiate soltanto che siamo un broker regolamentato dalla FCA UK e abbiamo le commissioni tra le più basse del settore con spread a partire da zero non siamo noi a dirlo che abbiamo le commissioni basse però basta eh fare appunto dei confronti con di ticcon ticmil con altri broker anche su siti esterni come MyFXbook per vedere eh e apprezzare le nostre qualità di training che non sono soltanto nelle commissioni ma anche nella velocità di esecuzione grazie agli oltre dieci server sparsi eh per il mondo inoltre potete provare eh senza eh nessun deposito richiesto il conto di prova dove verranno accreditati trenta dollari quindi non dovete depositare non dovete inviare la documentazione per aprire il conto basta semplicemente un'email e avrete la possibilità di provare eh il sito il il broker di ticmil vi faccio vedere anche il sito se Marco riesce andare sul sito di ticmil certo eccoci qua dove appunto potete poi scaricare il compilare il modulo scaricarvi anche la piattaforma di ticmil e e quindi niente puoi fare tre io Marco vedo un po' le immagini ritardate quindi non con un po' di ritardo però non non è un problema eh se comunque tu il relatore quindi eh non credo che ci siano problemi eh di sorta allora ehm faccio una precisazione questo eh evento del training talent show coaching durerà eh sei mesi dove appunto verrete seguiti dal dal coach Marco D'Andrea e sarà un percorso eh che ovviamente eh sarà graduale quindi questa sera io lo dico in modo tale che chi magari è già più esperto e quindi magari già le conosce queste ehm queste nozioni può anche non seguirlo questo webinar eh e quindi magari anche risparmiare tempo perché andremo a affrontare problematiche relative alla leva finanziaria alle caratteristiche della MetaTrader 4 e se ci rimane del tempo eh facciamo anche eh vediamo anche come agganciare un conto eh a MyFXbook perché eh proprio la peculiarità di questo eh di questo momento è far sì che i conti eh non importa se siano demo o real eh vengano agganciati a MyFXbook in modo tale da avere poi dei riscontri oggettivi e questo è uno dei motivi per cui io poi ho accettato la partnership con Renato De Carolis perché ehm chi un po' eh mi conosce e eh segue un po' eh anche la chat di Telegram e altri gruppi su Facebook sa che io comunque cerco molto il riscontro oggettivo eh e statistico dalle strategie e questo è anche un altro dei motivi per cui ho scelto Marco perché lui è un trader quantitativo e come me eh piace eh avere dei riscontri eh oggettivi e statistici su quelle eh sulle strategie che verranno poi man mano eh presentate nel corso del di questi sei mesi. eh quindi la premessa è stata fatta vi giro anche il link eh del gruppo che è stato creato posta per questo evento si chiama Working Forex potete seguire eh potete unirvi direttamente al gruppo proprio perché non non verrete lasciati soli eh ma eh sarà appunto un percorso che faremo insieme in nel momento in cui eh nel momento in cui eh doveste avere qualsiasi tipo di eh di richiesta potete eh scriverlo direttamente sul gruppo ehm Facebook e troverete o me o Marco a rispondere poi alle varie eh domande. Eh quindi ho finito eh la premessa Marco quando vuoi puoi iniziare quindi parleremo ripeto della leva finanziaria quindi affronteremo un po' le basi del Forex per poi passare le funzionalità della MetaTrader e quattro e eh se ci rimane del tempo come collegare un conto a MyFxbook. Ok allora buonasera a tutti eh grazie ancora allora eh ringrazio anche Giuseppe insomma per gli ottimi complimenti e e per la presentazione. Allora partiamo da una piccola premessa su come sono nati gli strumenti finanziari e qui praticamente eh ci distinguiamo in fase di edging e fase di edging che cosa vuol dire? Fondamentalmente a livello fonico sembrano più o meno la stessa parola e anche a livello gra a livello diciamo di grammatica c'è un H fondamentalmente che eh distingue questi due termini. In generale la differenza è abissale perché edging con l'H davanti significa assicurazione edging senza H significa vantaggio. Questo perché fondamentalmente suddivide quelli che sono gli operatori del mercato. I operatori del mercato ne abbiamo insomma solitamente diversi. Quelli che fondamentalmente si appoggiano al legging, all'assicurazione sono coloro che eh hanno un'attività o di natura finanziaria o spesso di natura commerciale per la quale hanno bisogno dello strumento derivato al fine di mediare un prezzo. Io solitamente faccio sempre l'esempio classico della eh del contadino che ha una sua azienda agricola che magari eh ha arance ad esempio per diciamo tutelarsi un pochettino da quella che è la stagionalità, un inverno avverso, una strada troppo calda che magari può rovinare il raccolto in linea generale se lui campa di quello fondamentalmente quindi ha bisogno di avere eh un prezzo stabile al fine di sfamare se stesso, la sua famiglia e raggiungere fondamentalmente quelli che sono i suoi obiettivi sia di vita che economici. Quindi affinché lui eh possa avere un prezzo medio di carico e quindi ottemperare un pochettino a quelle che possono essere le avversità che un'attività commerciale può avere può utilizzare la borsa al fine di eh fare una strategia che viene chiamata solitamente spread ovvero se prevedo che il mio raccolto andrà molto bene magari mi posso coprire con degli short sul sul sottostante che io praticamente sto avendo come attività commerciale. Stesso discorso per l'attività finanziaria, ad esempio il Forex, perché cosa viene utilizzato in edging? In edging il Forex viene utilizzato al fine di coprirsi dal rischio di cambio. Che cosa vuol dire questo? Che se io sono un un commerciale sempre che eh esporto merci, sono soggetto appunto a questo rischio di cambio. Quindi se prevedo che magari il cambio mi andrà a favorire magari posso prendere qualche posizione short sul sul mercato finanziario oppure se vedo che il cambio mi andrà a sfavorire allora prenderò delle posizioni long sul cambio in linea generale in modo di avere eh un guadagno da una parte e magari o una perdita dall'altra. Ovviamente questo è eh è scontato quindi non non si tende ad avere entrambe le attività per guadagnarci su entrambi i fronti ma serve semplicemente a mediare un prezzo al fine di dire alla fine insomma dell'anno fondamentalmente la chiusura della contabilità aziendale di dire ho questo avuto questo diciamo questo guadagno o dalla finanza o dall'attività reale che bene o male è costante nel tempo perché si punta ad avere la costanza nel tempo. Chi invece fa speculazione vera e propria quindi l'edging è fondamentalmente la controparte del commercial perché qual è il problema fondamentalmente di questi grossi operatori commerciali è proprio il fatto che non è che vanno short con un contratto o con posizioni piccole vanno short o long pesantemente e per andare long o short pesantemente non basta quello che eh gergalmente viene chiamato parco vuoi ovvero i retail ovvero noi piccolini che fondamentalmente andiamo a farci le nostre speculazioni eh vere e proprie insomma sui mercati eh vanno fondamentalmente alla ricerca di grossi ordini eh e per grossi ordini c'è bisogno appunto di o niche found o comunque dei casi di un operatore di natura istituzionale per la quale possa fare la controparte e bene o male sappiamo come posizionamento che i commercial solitamente sono sempre contro istituzionali in linea generale proprio perché eh laddove perde eh diciamo dove è perdente in in termini finanziari il eh commercial lo eh lo speculatore quindi legge tende a essere la controparte e quindi essere la parte vincente questo è anche il motivo per cui fare trading è profittevole perché se noi riusciamo bene o male nel nostro piccolo a replicare quello che è un ragionamento di una di uno speculatore di professionista quindi colui che va alla ricerca delle controparti eh di natura appunto più grande e lui ci guadagna al mercato possiamo farlo tranquillamente anche noi quello che appunto caratterizza un pochettino eh i mercati finanziari sono eh di diversi tipi eh sono fondamentalmente il forex ormai ad oggi abbiamo una doppia distinzione le criptovalute e le valute fiat ovvero eh i cambi valutari che eh si dividono in cambi classici e pair i pair fondamentalmente sono quelli che hanno la diciamo il dollaro come come protagonista e quindi sui pair eh diciamo sul super contro il dollaro abbiamo la maggior parte insomma delle measure ovvero i cambi maggiori poi abbiamo gli altri cambi che possono si distinguono in altre measure che magari hanno come protagonista anche le monete principali come l'euro, lo yen, il canale dollar, l'australian dollar, il new ziland dollar, la sterlina ad esempio e poi abbiamo anche le monete diciamo fiat che sono un po' più particolari come ad esempio possiamo essere il rublo, il messi campeso eh la lira turca eccetera eccetera. Le cripto fondamentalmente sono sono dieci anni insomma che che ci sono però che sono stati diciamo strumentalizzati dal punto di vista finanziario anche sotto forma di CFD è da poco tempo eh TIC1000 ci darà la possibilità di tradare il Bitcoin quindi il cambio ufficiale Bitcoin dollar che comunque replica eh più o meno quello degli exchange quindi fondamentalmente è più o meno la stessa cosa. L'unica differenza è che non si possiede il sottostante del Bitcoin quindi non alla scadenza o comunque dei casi al durante la contrattazione non scambiate il Bitcoin ma semplicemente scambiate un titolo cartolare. Poi abbiamo le commodities che si distinguono anche qui in vari gruppi sono quelle energetiche dove abbiamo fondamentalmente il più famoso che è il crude oil o chiamato anche VTI che alla fine è più o meno la stessa cosa l'unica cosa il crude oil è di natura americana VTI è di natura eh texana però la il prezzo è lo stesso quindi l'andamento è al 95% speculare. Poi abbiamo anche altri tipi di energie minori come il Brent oil, l'heating oil eccetera eccetera. Poi abbiamo i metalli che eh sono diciamo di natura primaria come il gold e il silver, di natura secondaria come il rame eh il platino, il palladio. Poi abbiamo le agricole che sono di vario tipo insomma bestiame eh Marco scusa se scusa se ti interrompo. Allora sì la regge leggo un po' la domanda di Cristina sulla registrazione verrà eh data a mh a tutti gli iscritti eh Marco va bene ok eh hai fatto un quadro generale un po' di quello che sono eh i mercati finanziari eh tra l'altro ha anche ehm spiegato bene quali sono poi gli attori principali e tra l'altro questo entrerà in una strategia eh che mh andremo a proporre proprio sul sul quad report quando parlavi dei commercial e dei eh dei large speculator e faremo vedere proprio una una strategia proprio indicata su euro dollaro eh e quindi ci saranno diverse cose eh interessanti. Marco se sei d'accordo io direi di passare eh visto che tu mi hai detto che ehm vorresti eh restare entro la mezz'ora di di webinar eh di passare sul sulla leva. Esatto. Allora guarda prima di tutto per concludere perché comunque il si è parlato di quad report e tutto quanto però ci focalizziamo sul forex sul cambio quello che ci tengo soprattutto a dire che un cambio valutario eh quindi che sia per o comunque nei casi un qualsiasi altro cambio è una correlazione naturale tra due valute. Quello che è importante sapere che quando un cambio sale o scende fondamentalmente non è perché per forza la la valuta a numeratore si è apprezzata o quella numeratore si è apprezzata perché se prendendo esempio di euro dollaro se l'euro dollaro sale non vuol dire che per forza l'euro è forte può essere anche che l'euro è più debole e si è apprezzato meglio il dollaro potrebbe anche essere una salita tra i meno peggio quindi attenzione perché quando abbiamo due valute a confronto che tirano giù un grafico non è mai scontato che per forza se scende è perché l'euro che che sta andando male magari potrebbe essere il dollaro che sta andando molto bene invece oppure entrambi vanno bene ma il dollaro va meglio ancora e quindi in linea generale dobbiamo fare molta molta attenzione su questi aspetti che sono sottili ma di fondamentale importanza fondamentale importanza l'abbiamo anche la leva finanziaria distinguiamo di tre tipi abbiamo quello che è l'effetto leva che fondamentalmente l'effetto leva è quello che parlavo poc'anzi quando parlavo degli operatori c'è il nostro operatore che ha un sottostante commerciale se va a guadagnare sia sull'attività finanziaria che sull'attività commerciale una tira l'altra perché sono correlate e quindi si crea questo effetto leva ovvero che avendo due attività correlate tra di loro essendo appunto correlate e quindi collegate in maniera diretta quindi una se va molto bene tira bene anche l'altra in linea generale ovviamente se sei posizionato una posizione opposta andrà molto male in linea generale quindi l'effetto di spread è a zero il delta è nullo in linea generale per da non confondere invece con quella che è la leva operativa e la leva del conto la leva operativa fondamentalmente il rischio che uno si va a che una persona si assume nel momento in cui decide di vorrei in essere un'operazione quindi fondamentalmente si ho un conto di 1000 euro e praticamente vado a rischiare il non so il 5 per cento del conto quindi circa 50 euro vuol dire che sto utilizzando una leva operativa 5 che cosa vuol dire quindi che ogni talvolta che l'opera che la mia operatività andrà male o magari andrà bene che ho proprio legato 5 per cento quindi sto utilizzando una leva operativa a 5 ovviamente questo non va confuso ancora una volta con la leva del conto perché spesso volentieri al di là insomma del nostro broker di di sponsorizzazione trovate spesso a offriamo leva una 500 una mille un 800 un accento che cosa vuol dire questa cosa vuol dire semplicemente che il vostro lo strumento che andate a tradare vi permette ad esempio tic 1000 ci offre una leva una 400 se non erro e correggimi se sbaglio no leva una 500 però fai bene a specificarla questa cosa poi magari aggiungo io qualcosa ok fondamentalmente la leva di uno strumento la si calcola con una formuletta molto molto semplice ovvero si prende il valore di quello strumento prendiamo ad esempio andando proprio sulla piattaforma e così andiamo subito operativi prendiamo ad esempio il forex in questo momento prendiamo proprio euro dollaro euro dollaro attualmente ci dice che è 1,2205 che cosa vuol dire questo che se andiamo sul tasto destro di euro dollaro andiamo a vedere su specificazione e andiamo a vedere che ci dice che dopo la virgola ci sono cinque cifre la quarta si chiama pips la quinta si chiama decimo di pips o pipettes come magari si può dire anche in un linguaggio un po più gergale ti dice fondamentalmente la dimensione del contratto ti dice che la dimensione del contratto è di 100.000 con valuta in euro fondamentalmente il volume massimo è fondamentalmente il volume cioè minimo e massimo che puoi scambiare su questo strumento ovvero puoi utilizzare un centesimo di lotto oppure 100 lotti qual è fondamentalmente il valore? è se utilizzo un centesimo di lotto ogni pips quindi la quarta cifra mi varrà un centesimo se io la moltiplico per il lotto intero fondamentalmente ottengo 100.000 come come posso fare questa operazione prendo ad esempio il valore del pips che è 10 dollari e lo moltiplico fondamentalmente per il suo lotto intero 10 dollari per cento fa 100.000 ok? e fondamentalmente questo è il valore della leva questo come si ovviamente sul forex si calcola in questo modo calcolandola ad esempio sul VTI noi vediamo che sempre facendo il solito discorso specificazione vediamo che ogni tick quindi il VTI si apprezza o deprezza di un centesimo alla volta quanto vale? vale fondamentalmente ogni centesimo vale 10 centesimi su questo broker ovviamente utilizzando il lotto intero vuol dire che ogni c'è ogni tick che fondamentalmente questo mercato scambia utilizzando il lotto intero vale 10 dollari di 10 dollari di valore perché ovviamente questo controvalore va calcolato in dollari perché siamo su uno strumento americano quindi quant'è il valore della sua leva ovvero la marginalità sul conto che dobbiamo avere per utilizzare per utilizzare un lotto intero con leva 1 vuol dire che fondamentalmente dobbiamo moltiplicare il valore dello strumento per il valore del tick quindi attualmente siamo con un valore di 6.200 tick di VTI che moltiplicato per il suo valore del tick che è 10 dollari per il lotto intero vuol dire che attualmente per muovere il VTI a leva 1 ci servono circa 62 mila euro con la leva 1 a 500 quindi sfruttando la leva massima vuol dire che a noi bastano fondamentalmente circa 120 euro all'incirca correggimi se sbaglio giuseppe se per muovere all'otto intero il VTI giusto allora in linea di massima sì però sul WTI la leva massima è a 100 non a 500 mentre sull'euro dollaro è a 1 a 500 quindi dovete vedere la leva aggiungo solo questo Marco come se fosse un contachilometri di una vettura magari lì vedete che la vettura può arrivare a 350 km orari ma come diceva giustamente Marco poi siete voi a decidere la leva operativa nel momento in cui andate ad aprire la posizione a mercato quindi potete mettere anche la leva a 500 però poi quello che conta in realtà è la leva operativa che andate man mano ad applicare al conto quindi fate sempre molta attenzione a non confondere le due cose perché vedo che a molti clienti ci sono diverse comunque molte volte domande proprio per su questo tipo di leva tenete conto che se fate un deposito di mille euro sul conto con la leva a 500 poi che cosa fate moltiplicate questo deposito di mille per 500 quindi ipoteticamente voi potreste aprire una posizione da mezzo milione di dollari che è pura follia perché ovviamente a parte che il broker per magari per ragioni di margin call e stop out non ve la fa aprire poi questo magari poi lo spieghiamo dopo però ipoteticamente moltiplicate queste mille per per 500 quindi potete aprire ben cinque lotti ad esempio su euro dollaro e su ogni variazione di pip che spiegava prima marco quindi basta una variazione di pip per far sì che quel costo sia di 50 dollari capite bene che su un conto da mille dollari avete un margine una marginalità su euro dollaro in pips di appena 20 pips quindi basta che l'euro dollaro faccia un movimento di 20 pips che è una cosa che fa che può farlo anche in un'ora che bruciate potete bruciare il conto e quindi andare in margin call in stop out quindi questa è una precisione da fare invece se aprite una posizione da 0 10 e quindi avete deciso voi la leva da utilizzare sul conto da mille siete a leva 10 perché leva 10 perché 0 10 quindi un mini lotto corrispondono a circa 10.000 adesso l'euro dollaro quant'è 1 e 22 sono grossomodo 12.000 dollari quindi ogni variazione vi costa un euro circa e quindi su un conto da mille fate non avete molto margine in pips quindi questa cosa è sempre molto importante ribadirla esattamente esattamente allora quello che volevo spiegare appunto il discorso di margin call e il discorso anche come calcola leva l'abbiamo appena visto il discorso della margin call che cosa vuol dire andare in margin call andare in margin call significa fondamentalmente andare che stiamo per terminare praticamente tutti i soldi che abbiamo sul conto che cosa vuol dire questo che fondamentalmente vuol dire ci siamo esposti troppo a mercato ed è fondamentalmente il problema principale di tutti quanti i trader che cosa vuol dire questo che come ha detto poc'anzi giuseppe mettere una leva così alta in mano a neofita è purtroppo un grave problema perché il neofita non si rende conto bene o male che sta guidando una ferrari e quindi va subito a tutto gas quando in realtà non ha le conoscenze per poterla gestire invece formandosi prima quindi seguendo appunto un coach o comunque dei casi studiando anche sui libri insomma seguendo delle università o dei corsi specializzati per quanto riguarda questo tipo di disciplina si arriva fondamentalmente ad acquisire le conoscenze e si capisce che una volta che ad esempio sia un bacino molto ampio di strumenti quindi si viene a creare anche comunque delle conoscenze di diverso tipo di diverse tecniche purtroppo per ragioni di tempo su questo percorso ne vedremo giusto un paio però fondamentalmente ce ne sono tantissime io personalmente gestisco un portafoglio di oltre 50 strategie e la maggior parte automatizzate e fondamentalmente o comunque semi automatiche perché comunque mi piace anche a me fare del tedding discrezionale fare clic insomma non questo vizio non me lo voglio togliere in generale però questo per farvi capire che comunque indifferente chi fa clic se lo fai tu lo fa il computer l'importante è che ci sia quella oggettività e base statistica che può supportare il tuo il tuo trading però diciamo l'aspetto favorevole della leva in quel caso lì è che potendo aprire tanti lotti o comunque tante posizioni diverse su vari strumenti ti si viene a creare un effetto diversificazione sul portafoglio tale che in quel caso tu sei padrone della leva del rischio operativo della simbola strategia e quindi non andiamo più a utilizzare quello che è la leva del conto non la trascuriamo perché l'abbiamo ben acquisito il concetto e come si gestisce e andiamo ad utilizzare una leva operativa che ad esempio prendendo dieci strategie rischiando mezzo punto percentuale l'uno abbiamo sì è vero un esposizione al 5 per cento ma abbiamo pure che in tutte le strategie hanno dei parametri statistici tali che non tutti per forza andranno in perdita allo stesso momento quindi se magari 4 guadagnano e 6 perdono avremo perso siano al 2 per cento ma nemmeno in linea generale quindi fondamentalmente siamo sempre controllando il rischio che comunque siamo anche con un rischio piuttosto pronunciato già al 2 per cento a singola operazione perché consiglio sempre quando si assume un rischio in linea generale se assumete il rischio del 10 per cento per ogni operazione vi bastano 10 operazioni consecutive avete razzato il conto in linea generale quindi più è basso il rischio che mantenete e più aumenta la speranza di rimanere insomma quantomeno di avere una marginalità sul conto tale che potete aprire sempre più operazioni se vi bruciate tutto quanto alle prime alle prime operazioni quindi avete più che altro un atteggiamento rutopatico e non da professionisti in quel caso lì vi siete praticamente giocati da solo la possibilità insomma di di creare un comunque un qualcosa perché avete bruciato il capitale qualunque esso sia perché parlando di statistica la statistica è applicabile a un conto da cento euro da mille da diecimila da cento mila da un milione di euro insomma poi ognuno ha alla sua gestione venendo un pochettino a quelli che sono i contatti ve li lascio qui in mostra vi vorrei far vedere quello che sarà lo strumento di lavoro quindi i ferri del mestiere come si possono dire che è la nostra piattaforma che la metodo del 4 diciamo una piattaforma open source ovvero dove è programmabile infatti vedete qui ho già l'auto trading attivo perché attraverso il pannello dell'editor si chissà programmare qualcosa insomma si può automatizzare le proprie strategie e quindi fondamentalmente dopo utilizzarle con il broker che preferisce ovviamente la mia preferenza è su tic mil proprio per le condizioni di velocità innanzitutto di esecuzione del degli ordini ma soprattutto anche per le commissioni poi andremo a studiare bene che cosa sono le commissioni i costi impliciti del trading lo dicevo anche chi mi ha seguito nel video di presentazione datemi solo un solo euro di risparmio per ogni singolo eseguito e vi farò diventare milionari perché capite da soli diecimila eseguiti risparmiando un euro per ogni eseguito a fine anno avete guadagnato diecimila euro implicitamente che non sono pochi in linea generale quindi vi vi terrei insomma a far presente insomma queste queste piccolezze che comunque nei casi fanno fanno la differenza in linea generale vediamo un pochettino quella che è la piattaforma e vediamo dalle proprietà come impostare fondamentalmente il grafico voi qui avete già delle impostazioni di base quindi scusami marco se ti interrompo allora tu mi spiegavi un po della difficoltà tua legata un po per la situazione adesso di di roma che abbiamo letto anche un po sui vari telegiornali tu riesci a devi andare oppure puoi fermarti per ii assolutamente infatti volevo proprio ci tenevo a concludere proprio questo discorso io volevo un attimo spiegare perché non abbiamo fatto nella margin call e lo stop out perché sono sono cose importanti da sapere poi magari se vuoi lo spiego il la parola molti broker vi danno margin call e stop out margin call al cento per cento e stop out al trenta per cento che cosa significa sostanzialmente perché su questa cosa molti trader non hanno compreso bene il funzionamento facendo sempre il caso di avere una leva a cinquecento fare il caso di avere un conto piccolo da quattrocento euro il margine che vi richiede il broker con una leva a cinquecento di duecento euro minimo con su duecento euro quindi potete aprire magari un lotto con leva a cinquecento quindi avrete il margine di duecento euro se da questo conto da quattrocento euro il mercato vi si muove contro e raggiunge il margine di duecento euro poi andate in margin call il broker non vi chiude ancora le posizioni ma la meta trader vi auguro di non vivere mai questa comunque questa situazione si inizia ad illuminarsi di rosso quindi sulla diciamo sul saldo vedrete appunto illuminarsi di rosso e vi viene fatto una una chiamata di margine se non integrate con dei fondi se raggiungete un ulteriore 70 per cento di perdita di quel margine vi arriva allo stop out al 30 per cento e quindi quando raggiungete il 60 euro sul conto il broker che cosa fa vi va a chiudere le posizioni da partendo da quelle con la maggior perdita e quindi verrete poi buttati fuori man mano dal mercato se ovviamente vi viene chiusa una posizione in stop out e il conto ritorna sopra il margine richiesto ovviamente non vengono chiuse le altre posizioni quindi se poi il mercato vi arriva dalla vostra parte allora in quel caso rientrate anche dalla margin call e quindi non non siete più soggetti allo stop out questa cosa è molto importante specificarla e troverete molto materiale anche su internet e non sottovalutate questi aspetti perché sono sempre molto importanti soprattutto per chi poi utilizza una leva finanziaria molto alta con capitali bassi che è una cosa che comunque consigliamo sempre di fare però ci sono molti trader che troppo sono molto sono sottocapitalizzati e quindi utilizzano al massimo la leva e quindi marco poi direi adesso io ho spiegato il margin call se avete poi delle domande potete farla anche sul gruppo facebook adesso viene di vedere un attimo le funzionalità le varie funzionalità della meta trader 4 quindi marco ti rilascio la parola e poi chiudiamo visto che comunque siamo già oltre la mezz'ora ok allora velocemente le funzionalità vi ho fatto vedere prima fondamentalmente come calcolare la leva il menu specificazione qui dal menu ovviamente tasto destro simboli vi potete un pochettino giostrare e ovviamente questo il mio è il conto reale potrebbe differire leggermente ma non di molto la demo le impostazioni alla stessa magari potreste subire qualche strumento in meno insomma non non ci sono grosse differenze non ci sono 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 quelli poi ovviamente se ci sono sulle news ci può essere un po di latenza sulla demo ma non nel 99 per cento dei casi i prezzi sono identici ovviamente sulla demo non avete gli slippage perché non siete al mercato reale però quelle poi sostanzialmente le quotazioni sono le stesse la demo su tic mil sono illimitate quindi marco se vuoi girare anche il link dove scaricarsi una demo posso in chat così magari potete poi iniziare a provare a vedere un po come funziona la meta trader 4 ok allora aspetta che devo prima vedere come si fa se ce l'hai lì portata di mano se no non fa nulla ok lo metto casomai dopo a fine sì 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 fai vedere un po come come far vedere l'ask il prezzo dell'ask sulla meta trader 4 perché ha molti sfuggi questa cosa che è molto anche molto importante allora innanzitutto spieghiamo innanzitutto che cos'è il bid dell'ask fondamentalmente vedete qui vedete offerta e richiesta e abbiamo quindi la la differenza ovvero sarebbe la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita fondamentalmente e la differenza è come potete vedere ovviamente sul forex non c'è perché tic mil come dicevo prima non ha uno spread piccolissimo se vi dicevo prima la quarta cifra è l'unità di misura quindi il pips vedete su euro dollaro stiamo a due che cosa vuol dire che sono due decimi di pips praticamente lo spread non c'è la differenza tra denaro e lettera è la stessa e questo comunque garantito da una grossa liquidità che comunque dei casi i liquidi provider danno a questo broker per utilizzare anche anche alle otto di sera non è facile avere questi spread proprio perché diversi liquidi provider quindi bid dell'ask sono quasi sempre allineati esatto allora qui dal menu tasto destro proprietà potete impostarvi un po' lo schermo come volete quindi la candela toro ovvero quella rialzista quella candela orso quella ribassista la linea del prezzo del bid dell'ask comunque livello di stop profit i volumi potete sbizzarrirvi voi con diciamo i colori che volete ho avuto tempo fa un corsista che era dal tonico quindi comunque che saluto tra l'altro e che comunque dei casi ci sono purtroppo che sono anche questi problemi quindi ognuno si imposta i colori che meglio crede in generale poi di qui possiamo impostare fondamentalmente la scala del grafico per chi magari vuole lavorare su questa cosa e chi vuole sapere sia il prezzo di domanda di offerta poi si mette il flag su mostra linea del prezzo richiesta qui per richiesta si intende quindi la linea ask e quindi fondamentalmente abbiamo entrambi per magari vedere un pochettino la differenza che possiamo avere di spread ovviamente a che serve questo sia ad esempio vogliamo tradare non so il bitcoin dove magari la potete vedere la linea tra bid e ask è un po più ampia in linea generale siamo in h4 vedete quanto è un po più ampia in generale se lo mettiamo in m5 vedete che si nota ancora di più se lo mettiamo ad esempio sull'euro dollaro lo metto a un minuto addirittura e vedete che la differenza non c'è e questa cosa molto importante perché molte volte capita che vedete uno stop loss e non capite il motivo perché ovviamente sul grafico e le quotazioni sono i bid ma dovete tener conto anche dell'ask quindi questa cosa è sempre bene specificarla ad esempio se siete short e mettete il stop proprio su un non lo so adesso tu marco hai quei frattali noi indicatore frattale nel caso volessimo entrare short adesso su euro dollaro mi andate a piazzare lo stop loss proprio sul primo frattale in resistenza quindi primo frattale up magari lo mettete lì proprio al ridosso il prezzo ve lo sfiora e vi prende lo stop e voi non capite perché perché andate a vedere il bid che il bid ancora non è stato battuto mentre l'ask invece ha battuto il prezzo e quindi vi ha buttato fuori e quindi questa cosa è molto importante da sempre da tener conto non più che altro non su euro dollaro ma anche su altri cross altri campi noi marco se non sbaglio tu andrai a parare di strategie su sterlina yen e sul da più di tra l'altro giuseppe oggi strina jane ci ha dato anche un bel gain eccolo qua meglio che qui che questo è un francollo in furo fondamentalmente ottimo 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 e poi andremo a vedere la strategia del cot report applicata all'euro dollaro quindi sostanzialmente noi ci focalizzeremo su su tre strumenti quindi è in questo percorso andremo a vedere lascio questa novità fondamentalmente sto testando e che grazie anche alla auto trading fondamentalmente riesco a capire quali sono gli strumenti che sono operati alla strategia noi ci guardiamo un po di cross quindi ci guardiamo l'euro dollaro ci guarderemo la sterlina dollaro ci guardiamo la sterlina yen e poi ci guardiamo anche il wti questo che cosa vuol dire magari lo vediamo nel corso del percorso del gioco di parole vediamo un po anche anche perché comunque ci sono diversi scritti e quindi noi siamo partiti proprio dall'inizio e quindi vediamo un po anche il gruppo come come segue bene tutte le strategie proprio perché eh non credo che siano io non le conosco le le tue strategie quindi sono anche curioso e sarò un tuo corsista le seguirò perché anch'io sono un trader e mi piace sempre comunque confrontarmi con altri colleghi e quindi andremo un po a vedere in questo percorso e cercheremo eh di non lasciare nessuno indietro eh mi raccomando iscrivetevi al al gruppo facebook che vi ho girato in chat perché eh sarà un po il centro di tutto lì se avete delle domande o qualsiasi cosa potete scrivere eh sul post e poi o io o Marco comunque vi vi risponderemo oppure anche altri utenti più eh più esperti ehm Marco cos'altro dobbiamo vedere sulla metatrader eh sostanzialmente molto intuitiva come come piattaforma quindi ehm visto che comunque abbiamo sforato la la mezz'ora eh magari vi scaricate la demo poi se avete delle domande particolari eh potete comunque farcela appunto ripeto eh sul gruppo facebook oppure sui contatti che ha girato prima Marco eh via mail e direi Marco se tu non hai altro da aggiungere possiamo anche chiudere il webinar e rimandare al prossimo appuntamento che io non mi ricordo in realtà la data allora in realtà non abbiamo non mi è arrivata nemmeno ancora a me la 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 data comunque ve la comunichiamo via mail nel frattempo ho postato in chat anche il link di registrazione a Tickmill per chi vuole provare una demo insomma in generale esatto iniziate a scaricarvi la demo a familiarizzare un po' con eh con il conto il nostro conto di punta che è quello che poi useremo è il conto pro che parte dagli spread da zero quindi useremo su quel conto lì eh e poi nei prossimi appuntamenti che adesso non ricordo bene la data ma saranno eh saranno a marzo quindi saranno due eh andremo eh entreremo nel andremo a vedere come si collega un conto a MyFXbook e vedremo altre cose e inizieremo un po' a entrare nel vivo delle delle strategie Marco tu hai qualcosa altro da aggiungere? No assolutamente quindi vi ho dato un po' di anticipazioni quindi comunque dei casi la piattaforma abbiamo visto come usarla la prossima volta la prima cosa che faremo è vi mostreremo come collegare il vostro conto al MyFXbook in modo tale da eh dimostrarvi anche comunque un pochettino mh tenendo col MyFXbook fondamentalmente riuscita anche a tenere sotto controllo l'operatività le metriche in generale oltre che magari a certificare dei risultati quello magari può avere poco conto ma in linea generale quello che ha più conto è tener presente come si sta andando in linea generale quindi MyFXbook integrando la MetaTrader è sicuramente uno strumento di ottimo supporto poi Giuseppe su questo ci ci mostrerà in diciamo in open del prossimo incontro e sì io sono molto esperto su MyFXbook ci tengo particolarmente eh a questo aspetto e quindi poi andremo a spiegare bene Marco una domanda velocissima per te quel super trend che vediamo una domanda in chat farà parte della strategia oppure adesso è lì ma non è un super trend non è un super trend normale è un half trend unito a un super trend quindi questi sono appunto vi dicevo che il programmando si poi si fanno quindi dopo vi mostrerò tutto in linea generale e sì farà parte questo gli indicatori per il regalo andate tranquilli vi verrete supportati in tutto e per tutto ottimo ottimo allora ehm io direi di eh vi rigiro l'ultima volta il gruppo Facebook eh grazie a tutti per aver seguito questo webinar e vi do appuntamento al prossimo che vi faremo sapere sarà sicuramente tra eh un paio di settimane. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci.